Ha resistito al pubblico solo un'ora e mezza e chi l'aveva affisso sapeva bene chi avrebbe avuto vita breve, tant'è che si era organizzato per immortalare con i cellulari gli autori della rimozione. E così dispone anche di materiale video utile per una eventuale indagine se mai ce ne sarà bisogno. Stiamo parlando dello striscione comparso mercoledì sera davanti allo stadio di Policastro a firma degli ultra della Virtus Buxentum, una squadra di calcio locale impegnata nel campionato di terza categoria. Sul manifesto c'era scritto puoi anche negarci il campo ma Policastro resta al nostro fianco, da questo squallore restiamo fuori con onore. Una frase destinata a criticare sembrerebbe gli atti compiuti fino ad oggi dall'amministrazione per impedire alla squadra di Policastro di usare il campo sportivo del paese, tant'è che dall'inizio del campionato la giovane formazione si allena e disputa le gare interne a Vibonati. Domenica prossima finalmente avrebbe potuto giocare sul campo di Policastro come ospiti di caselle in Pittari. L'entusiasmo di giocatori e tifosi policastresi è stato funestato dalla determina del comune che interdice lo stadio da venerdì a lunedì prossimi per interventi necessari per la omologazione del campo e così la gara sarà giocata a Vibonati. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato alla fissione dello striscione degli ultra della Virtus Buxentum. Dalle immagini diffuse sui social è stato rimosso poco dopo utilizzando per il trasporto un furgoncino del comune di Santa Marina. Amareggiato il presidente del club Salvatore Tagliaferri, ex consigliere di opposizione, mi dispiace solo per i ragazzi che hanno perso l'occasione di giocare nel loro paese. La politica non dovrebbe mai smorzare l'entusiasmo dei giovani. Adesso il nostro impegno è concentrarci sulla gara di domenica. Il gruppo di minoranza nell'esprimere solidarietà alla Virtus fa sapere che presenterà un'interrogazione sulla vicenda. Se il campo non era omologato si domanda come si è potuto affidarlo a società terze. L'omologazione c'è o non c'è? Come mai è uscito fuori solo ora questo difetto? Noi della redazione abbiamo provato a fare chiarezza su questo punto ma il clima caldo che si è creato attorno a questa storia ha trattenuto qualsiasi risposta. Appare evidente però che la FIGC non avrebbe mai consentito gare di campionato in un campo non omologato o privo di una deroga.